facciamo prima del tipo di animale e poi facciamo il sesso per fare un drop down abbiamo un widget che si chiama drop down pattern form field allora viene da sé che gli items sono gli elementi disponibili e non changed è quando viene modificato qualche cosa allora nel non changed ci mettiamo la nostra classica funzione vuota ovviamente si sta arrabbiando perché questo changed ha un valore che è il valore di quello che adesso andremo a definire negli items quali sono gli items gli items in questo caso sono mettiamo una virgola qui c'è un errore gli items sono i pet type punto values, vedete questo era nel num vi ricordate prima abbiamo visto il name di un singolo elemento delle num ma pet type c'ha una property che si chiama values e ci dà tutti gli elementi delle num che significherebbe cat, dog, bird quindi values a questo punto abbiamo già visto anche altre volte facciamo un map nel map passiamo una funzione p ad esempio e qui cosa dobbiamo passare facciamo la row function e chiederemo un unico elemento dovremmo ripassare un drop down drop down menu item eccolo qua che vuole a sua volta un child il child qui mettiamoci un semplice text con il p il p in questo momento è il valore delle num punto name ora se vi ricordate già l'altra volta vi dicevo che per passare una lista i terrible non gli piace perché il map ritorna un i terrible quindi qui facciamo appunto to list e sparisce l'errore riformatiamo un attimo il codice eccolo qui salviamo andiamo a vedere ovviamente si arrabbia drop menu drop down menu item dobbiamo definire quale è il valore il valore è p andiamo a vedere e infatti non si arrabbia più e qui abbiamo ecco qua abbiamo i nostri elementi quindi viene da sé che per far ah no aspettate scusate non è solo dobbiamo fare l'unchanged quindi qui definiremo una variabile che chiameremo pet type pet type e qui magari possiamo inizializzarla a cat ovviamente questo è stato dando un errore ah perché qui non ho messo un punto di virgola ora qui per inizializzarlo al valore che abbiamo scelto prima c'è un'altra propria che ti chiameremo valve adesso salvo facciamo un hot reload vedrete che la drop down avrà già un valore sensato se io qui cambiassi mettessi dog andiamo a fare un refresh che adesso aprirebbe dog stavo notando adesso che guardando una cosa non vi ho detto una cosa importante quando si viene definito ce l'avevo detto nelle corse altre puntate però non vi avevo detto di distruggere quindi usare il destroy per distruggere eventuali classi o componenti che venivano creati all'interno del vostro state che altrimenti rimanevano appese questo ad esempio è il caso quindi devo fare nel dispose eccolo qui allora dobbiamo sempre chiamare super dispose ma dobbiamo eliminare il pet name controller come si fa a eliminarlo appunto dispose importantissimo questo ragazzi non ve lo dimenticate ok quindi abbiamo fatto il dispose qui abbiamo il drop down per il tipo di animale mettiamo il drop down per il sesso mi chiamo un altro drop down qui mettiamo gender 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 values qui punto name ok nel long changed allora qui nel long changed dobbiamo dirgli pet type pet type uguale value perché non gli piace pet type punto domanda esatto intanto mettiamolo così quindi andremo a settare il valore anzi facciamo un controllo se value uguale uguale a null facciamo un back turn non facciamo niente altrimenti questo è il pet type dobbiamo assegnarlo possiamo assegnarlo così no dobbiamo fare il classico set state ecco qua così risette lo stato e lo riassegna poi al value qui abbiamo la stessa identica cosa dobbiamo ancora creare il pet type dobbiamo ancora creare il gender gender mettiamoci pure i punti di domanda e lo inizializziamo a null quindi qui siamo nel pet eccolo qui qui abbiamo il gender non sarà pet type ma sarà gender e qui faremo la stessa identica cosa cioè andremo a settare il valore possiamo copiarci il codice da qua e qui sarà gender file ok andiamo a fare una reload ecco qui adesso se facciamo più abbiamo il dog e abbiamo adesso qui dobbiamo mettere il name e dobbiamo andare a fare la save la save ovviamente quando è che sarà disponibile e quando avremo riempito tutti quanti questi campi perché questi campi sono praticamente tutti quanti obbligatori quindi andiamo crearci qui una nuova funzione ecco qui andiamo a creare una nuova funzione che chiameremo chiameremo on submit on submit new pet perché aggiungeremo un animale alla nostra lista benissimo allora il primo controllo che dobbiamo andare a fare è andare a vedere se i campi sono validati quindi andiamo a prenderci dobbiamo andare a verificare che ci sia un nome punto test punto trim trim che significa togli gli spazi prima e dopo quindi ha tolto dietro quanti gli spazi e c'è un'altra funzione molto comoda che si chiama isempti useremo isempti quindi se è vuoto quindi l'utente non ha inserito il nome dell'animale oppure birthday è null che non ha selezionato la data oppure gender type vabbè l'ho chiamato gender è null sono gli unici valori che per type abbiamo deciso che non è null quindi ci sarà sempre un valore benissimo se qualcosa qui è andato male dovremmo far vedere far vedere un errore all'utente ora andiamo a settare questa funzione nel save andiamo a cercare il nostro bel pulsante save eccolo qui cancelliamo questo ci mettiamo on submit new path ebbene qui dobbiamo far vedere un messaggio d'errore come facciamo far vedere un messaggio d'errore perché significa che l'utente non ha riempito tutti quanti i campi facciamo vedere un messaggio d'errore molto generico faremo una show dialog quindi questa è la seconda modale anche questo chiede un context quindi ripassiamo il context del nostro state e il builder anche in questo caso lo rinomeremo in ctx e usiamo l'arrow perché tanto dovremmo far vedere soltanto un semplice widget ci metteremo un alert dialog l'alert dialog adesso lo vedremo come salta fuori è una modale che segnala ad esempio un problema ad esempio nel form questo alert dialog c'è un title quindi qui possiamo scrivere const text che cosa? possiamo mettere error questo mettiamo un titolo warning warning dai warning poi abbiamo necessità di definirgli e il content quindi il messaggio vero e proprio anche in questo caso metteremo un testo fill all fields magari si mette cost fill all fields benissimo e per il momento lo facciamo così facciamo salva anzi mettiamoci prima una virgola bare format salviamo e andiamo a ricaricare ora adesso io faccio save il pattern non c'è ecco questo è la modale per uscire da questa modale devo cliccare fuori ora non è molto user friendly quindi ci metteremo un pulsante qui per dirgli ok chiudimi close come si fa qui avete visto prima salta fuori sempre questo actions un po' come l'app bar quindi in actions ci mettiamo un bel text button all'on press faremo qualcosa adesso vedremo e come child ci mettiamo un text e ci mettiamo un bello ok in questo modo andiamo a vedere come salta fuori io premo save ecco qui vedete c'è un pulsante di ok ora premendo questo ok dobbiamo chiudere questa modale come si fa a chiudere questa modale qui nell'on press usiamo il navigator ma lo riprenderemo meglio più avanti faremo il pop con questa istruzione stiamo dicendo a flutter di togliere via di fare un pop delle schermate lo vedremo più approfonditamente il pop qui ha bisogno del contesto e il contesto quello che viene passato qui dentro nel builder quindi pop ctx salviamo andiamo a fare una reload bisogna per forza fare una reload di tutta la nostra app facciamo un più save ok si chiude vedete con lo stesso modo possiamo chiudere questa modale premendo il tasto cancel quindi copiamo questa istruzione ma la vedremo più avanti vedremo come funziona questo meccanismo nel cancel qui andremo a fare navigator pop non abbiamo ctx ma abbiamo context in questo caso perché siamo all'interno dell'adpet quindi andiamo a fare un refresh cancel si chiude la modale quindi save ok cancel chiude tutto ora abbiamo il nostro addpet questa funzione dov'è eccolo qui se mi mette new pet abbiamo questa funzione e dobbiamo e dobbiamo passare e passare intanto dobbiamo creare il pet quindi qui se salta fuori il show dialog e non facciamo niente quindi facciamo un bel torn punto e virgola e non facciamo nulla altrimenti dobbiamo creare il pet quindi creiamo pet ora qui abbiamo il name che sarà uguale a pet name controller punto text poi abbiamo il gender questo sarà gender poi abbiamo il type pet type e infine birthday che sarà birthday ora qui sta dando un errore perché questi qui sono due nullable ma abbiamo fatto il controllo di nullable qui sopra quindi siamo a posto ci possiamo mettere schammate o qui schammate o qui ora questa classe di pet a chi lo dobbiamo passare dobbiamo passarla a chi gestisce praticamente la lista dei pet e chi gestisce la lista dei pet chi ci sta invocando chi ci sta invocando è il home screen quindi cosa facciamo qui ci facciamo passare una funzione una funzione che chiameremo 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 niente che chiameremo final final function e pet new pet on add pet questa funzione ci deve essere passata obbligatoriamente quando faremo this punto on add pet andremo a creare questo widget a questo punto dobbiamo invocarla qui nel nostro submit e come facciamo l'abbiamo già visto anche questo lo state ci dà questa propria che si chiama widget punto e a questo punto avremo la funzione che andremo a invocare e qui ci passeremo il nostro bel pet appena creato visto ecco qua quindi on add pet mettiamoci una virgola ma è molto meglio così e una volta che chiameremo questa funzione come abbiamo visto prima nella chiusura del modale qua dentro scusate dov'è 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 eccolo qui faremo navigator pop non di ctx perché non ce l'abbiamo ma di context pensiamo all'interno dell'on add ora non rimane nient'altro che andare vedete qui mi sta dando un errore sulla home screen perché qui adesso nel add pet si aspetta una funzione si aspetta la funzione che noi stiamo richiamando quando noi abbiamo il tasto save qui vogliamo richiamare una funzione che sta nella home screen quindi andiamo a definirla questa questa funzione che chiameremo banalmente void on add pet e un parametro l'ingresso è pet new pet e che dobbiamo fare dobbiamo aggiornare la lista quindi facciamo set state perché una volta che aggiorniamo la lista deve anche rinfrescare tutto quanto l'interfaccia quindi facciamo set state noi abbiamo il my pets che sarebbe questi dati diciamo moccati che avevamo fatto prima all'inizio facciamo punto add new pet andiamo a rinfrescare andiamo proprio a rinfrescare tutta la maschera ah no bisogna anche passare la funzione magari ah si perché è costante bisogna toglierlo via eccolo qui andiamo a rinfrescare tutta l'applicazione benissimo abbiamo tre gatti se adesso faccio un'aggiunta qui possiamo mettere Sansone selezioniamo la data di nascita magari è nato il primo di questo mese è un cane e maschio adesso premiamo save ecco abbiamo un bel errore andiamo a vedere che cosa c'è ok sta dicendo che non riesce a caricare l'immagine Sansone giustamente non riesce a caricare l'immagine Sansone ma eccolo qui ci abbiamo eliminiamo un attimino i breakpoint così però è riuscito a creare l'immagine Sansone certo non esiste l'assert però in quel momento ineriamo questo errore però vedete siamo riusciti a creare un nuovo pet ora notiamo un altro problema quando io vado qua sopra la tastiera va sopra i bottoni è un po' fastidioso perché io clicco qui ma qua sopra è un po' fastidioso diciamo che possiamo diciamo sistemare questo questo diciamo problema tra virgolette e qui nel suo modo al bottom sheet c'è una property che si chiama is scroll scrolled mettiamo true vediamo un attimo se tolgo via questo facciamo il reload perché gli avevo dato un'altezza fissa adesso faccio più si apre a pieno schermo e quindi diciamo si vede bene come ho fatto a farlo vedere a pieno schermo ho messo questa property a true e ho tolto via l'altezza massima che avevo dato al container ovviamente se gli do l'altezza massima al container ovviamente non gli piace un'altra cosa che voglio sistemare qui nell'aggiunta togliendo via questo add size adesso faccio un refresh vedete è spostato quanto in su è un po' brutto da vedere quindi invece di fare un container che non ha più senso qui ci mettiamo un bel padding il widget non c'ha più senso il padding ha di required un parametro che è il padding qui se metto un edge insets all e metto 20 significa che metto un margine di 20 a tutto il bordo in questo modo in realtà io vorrei spaziarlo soltanto dall'alto verso il basso quindi posso usare from left top right bar sono quattro variabili tipo posizionale quindi a left diamo 16 al top diamo 48 a right 16 e al bottom 16 in questo modo adesso andiamo a fare un refresh ecco già meglio benissimo ora mettiamo qui un mail andiamo a fare save dobbiamo selezionare la data save benissimo ora abbelliamo un pochino queste queste card che non è che siano proprio proprio belle allora una delle cose che possiamo fare è l'immagine che vedete sopra sotto qui addirittura sballa tutta la card è quella ad esempio di farla diventare circolare quindi che facciamo qui intanto possiamo rappare il tutto in un container e poi nel child togliamo via anzi commentiamo per il momento questo image commentiamo un attimo e come child usiamo il circolavatar è un altro widget qui di dimensio qui possiamo decidere un radius di quant'è questo radius ad esempio possiamo mettere 100 poi vediamo come correggerlo e c'è una proprietà che è child child praticamente possiamo mettere ad esempio questo image ma se mettiamo questo così andiamo a fare un refresh ok è troppo grande è giustamente troppo grande perché abbiamo una card che avevamo messo da 150 se metto un raggio da 100 significa che è un diametro da 200 mettiamo un raggio da 45 molto meglio vedete però l'immagine non sta dentro al cerchio all'avatar vedete quindi per sistemare questo problema ricomentiamo questo circolavatar c'è background image background image cosa accetta qui un image provider allora usiamo un asset image in questo caso che serve proprio per andare a caricare le immagini degli asset e definiamo il pet name andiamo a salvare ed ecco qui che abbiamo finalmente le nostre le nostre icone tonde benissimo ma diciamo che prima si andava meglio quando c'era anche il container e facciamo così questo column facciamo un wrap un wrap con il container cioè lo abbiamo rimesso dopo averlo tolto ci mettiamo una larghezza di 150 andiamo a salvare oh adesso si che inizia a prendere forma benissimo ora però questo ciclavatar è troppo schiacciato vedete troppo schiacciato qui quindi dobbiamo allontanarlo per fortuna siamo dentro un container ci mettiamo un margin edge insets punto symmetric vertical e ci mettiamo un verticale di 10 ottimo ecco qua dai già prende forma un po' di più già sta prendendo un po' più di forma ora cancelliamo pure questo cancelliamo anche questo e magari questo il nome dell'animale upper case lo facciamo a maiuscolo eh già 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 meglio ok diamo la possibilità anche di cancellare gli animali ma solo diciamo che lo diamo su questa lista solo per riparare qualcosa di nuovo nella my pet list qui abbiamo il pet card ora vorremmo dare se quando io faccio uno swipe sopra cancellasse l'animale ora qui abbiamo un return con il pet in realtà questa possiamo trasformarla tranquillamente una narrow function qui possiamo cancellare questo possiamo cancellare questo questo lo possiamo cancellare al pet ritorniamo questo e qui possiamo togliere via e anche questo possiamo toglierlo via andiamo a fare un reload non è cambiato assolutamente nulla facciamo un reformat perfetto diciamo c'è una virgola anche qui benissimo ora per fare la possibilità di cancellare un animale qui mettiamo un wrap widget qui usiamo il widget dismissible il widget dismissible praticamente intanto ha necessità del parametro key ora solitamente il parametro key nel widget non lo dichiamo mai ma per il dismissible quindi in alcuni casi il dismissible come in questo caso qui ha necessità di un valore ora qui cosa possiamo metterci possiamo metterci un value key di che cosa qui possiamo dire un value key di my pets di index quindi abbiamo messo questo dismissible andiamo ovviamente il dismissible solitamente funzionerebbe se io faccio una swipe ad esempio da sinistra a destra o da destra a sinistra in questo caso dovremmo fare una swipe dal basso verso l'alto quindi dobbiamo dirgli la direzione del dismissible quindi qui abbiamo una property directions e quindi possiamo dirgli dismiss direction up quindi quando noi faremo up andiamo a rinfrescare quando facciamo up vedete benissimo il problema è che il dismissible quando andiamo a farlo così sembra che abbia già fatto ma in realtà lui non modifica le liste dobbiamo dirgli proprio di modificare la lista qui abbiamo una function ondismissed quindi quando abbiamo effettivamente cancellato il valore nel ondismissed gli passiamo c'è un parametro che è la direction noi in questo momento non ci interessa il parametro direction ma quando è prima l'utente ha fatto lo swipe per eliminare animale dovremmo andare a rimuovere l'animale che stiamo facendo lo swipe come facciamo facciamo così remove anzi on remove pet per il momento lo lasciamo così adesso andiamo a crearla e dovremmo passargli l'animale dove sono quindi my pets index ora andiamo a creare la funzione eccola qui mi va bene e qui cosa dobbiamo fare nell'on remove pet dobbiamo segnalarlo anzi spostiamola sopra dovremmo andarla a segnalare sopra come abbiamo fatto nel selected e dobbiamo dirlo all'home screen perché l'home screen è che gestisce la lista degli animali quindi ce la facciamo passare quindi qui facciamo un required this.on remove pet quindi ecco qui questo lo togliamo ovviamente è un punto virula ottimo quindi abbiamo definito la funzione ovviamente home screen mi sta dando un errore eccolo qui dobbiamo andarla a definire e qui chiameremo on remove remove pet andiamo a creare questa bella funzione è un get no create method ok andiamo qua sopra lo andiamo ad aggiungere qui così abbiamo l'on add adesso abbiamo anche la home remove e la home remove che vogliamo fare vogliamo andarlo a togliere se io faccio my pets punto remove pet ma come abbiamo visto un sacco di volte se vogliamo andare a fare il refresh della grafica dovremmo andare a fare un set state andiamo a metterlo qui andiamo a fare un altro load adesso io elimino l'una poi elimino posi poi elimino e abbiamo il maggioramento dello stato però oltre a fare remove potremmo anche far vedere una snack bar come si fa a far vedere lo snack bar molto semplice facciamo lo scaffold messenger punto lo scaffold messenger e off qui serve il context punto show snack bar qui vuole uno snack bar quindi glielo passiamo e qui c'è il content text pet removed mettiamoci un po' di virgole questo mettiamo punto di virgola qui facciamo reformat benissimo andiamo a vedere che cosa succede quando rimuovo eccola qua pet removed possiamo anche definire la duration quindi duration in secondi magari 5 vogliamo dare l'utente finale 5 secondi per vedere la snack bar e magari vorremmo dare la possibilità di farla undo quindi come facciamo mettiamo action gli action è come un action che possiamo dirgli sulla snack bar quindi diamo snack bar action sulla snack bar action diciamo label undo e l'on press dobbiamo fare qualche cosa cosa dobbiamo fare dovremmo andare a rinserire nel my pets il pet che è stato passato ma vorremmo inserirlo nella stessa posizione se facciamo add aggiungi in coda invece noi vogliamo inserirlo nella stessa nella posizione precedente quindi che possiamo fare definiamo una variabile index qui facciamo my pets punto index of del mio pet quindi c'è l'elemento index a questo punto qui possiamo fare una insert dove l'elemento index che è quello che abbiamo definito qui di che cosa di pet quindi diamo la possibilità all'utente di tornare nelle sue decisioni facciamo un altro load e guardate tanto ci sarà la snack bar che durerà 5 secondi qui mi appare pet removed clicco undo ovviamente non funziona perché non funziona perché non abbiamo messo la set state quindi se mettiamo la insert dentro la set state e andiamo a rinfrescare andiamo a rimuovere undo e me lo inserisce andiamo a rimuovere undo e me lo inserisce ragazzi è stato bello stare con voi ci aggiorniamo buona serata ciao